Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, inizio di dicembre segnato dall'arrivo dell'inverno sulla nostra penisola con l'ingresso di aria molto fredda da nord accompagnata anche dalla formazione di un minimo sul Mediterraneo che nei prossimi giorni porterà la neve a cadere localmente fino in pianura. Vediamo allora in dettaglio le previsioni per dopodomani, sabato 2 dicembre. Nevicate sparse al mattino da nord a sud con fiocchi fino in pianura tra Piemonte, Lombardia Occidentale ed Emilia. Rovesci temporali anche intensi soprattutto sul versante tirrenico come sulle isole maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio il maltempo sarà protagonista su tutta Italia con rovesci temporali e neve sempre localmente in pianura soprattutto al nord ovest, più asciutto solamente al nord est e sulle Alpi. Fenomeni intensi terranno sotto scacco il centro-sud dell'Emilia Romagna anche nel corso della serata così come in nottata, sempre con rovesci temporali ma anche neve che potrà cadere fino ai 300 metri soprattutto sull'Appennino settentrionale e sulla Sardegna. Tutto il profilo termico le temperature minime sono attese in aumento soprattutto al centro-nord mentre le massime caleranno leggermente specie sui settori occidentali della penisola. Per ulteriori approfondimenti come anche per tutte le previsioni dettagliate per le vostre località visitate il nostro sito oppure scaricate gratuitamente la nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.